In una situazione come quella del Medio Oriente, prima di prendere delle decisioni che possano essere ancora più foriere di divisioni, di violenze, di morte, a volte bisogna fermarsi e dire che devo fare io per essere veramente strumento della pace e strumento della volontà di Dio. Ci auguriamo che tutte queste situazioni vengano superate con la prudenza, la saggezza e il buon senso di tutti quelli che ne hanno la responsabilità. Certamente è stato un incontro molto simpatico e hanno scritto al Santo Padre dicendo quando è che tu verrai nel Libano? Tutti lo aspettano al Santo Padre nel Libano e questo glielo hanno scritto nella lettera della quale mi sono fatto veramente con piacere portatore.